Andrea uno dei primi, ma mi sembra un po' appannata sta telecamera. Claudio e poi c'è il buco Ottavio sempre più in forma, ma pure di mangiare i maialini, è sempre più morto, c'è un intruso, in fondo vento va da Walter, il Presidente, Franco, ma Luciano, no neanche ma c'è cazzo è andato eccolo qua, eccolo qua l'hanno risumato ragazzo vaga ti scende la catena, affano spiritoso vuoi salutare? vuoi salutare? no, perdone ma cagare va